Allora ragazzi, oggi facciamo un'intervista al contrario. Allora, in cosa consiste l'intervista al contrario? Consiste nel fatto che qui abbiamo la nostra mitica Giulia. Giulia quanti anni hai? 26. 26 anni e lei vi racconterà le aspettative che aveva oggi. Oggi abbiamo fatto l'estrazione di due denti del giudizio e di un'otturazione e è stata una delusione. Adesso ci dirà perché. Giulia, dici perché? Una noia proprio, noiosissimo. Io pensavo un po' di sangue, dolore. Ti eri anche informata, no? Sì, ho visto dei video su YouTube e pensavo di saccosa, neanche un punto. La cosa peggiore è stata che non si è nemmeno accorta che le ho tolto due denti del giudizio. Cioè, quando le ho detto ha fatto, mi ha guardato ha fatto no. Ma come? Quindi. Neanche tirare, neanche niente. Niente, niente. Proprio, e qui c'è la testimonianza che abbiamo anche due denti, due figliolini. Non me l'aspettavo. Niente. Quindi, sconsigliatissimo. Sconsigliatissimo. Per chi vuole soffrire, qui è sconsigliata. Assolutamente. Poi aveva anche la sedazione, quindi stava anche bene, gli uccellini. Non venite se volete soffrire. Niente. No. Proprio, ok. Quindi. Mitica. Poi ho fatto anche l'otturazione con la diga che non avevi mai provato. Niente. Cioè, avevi delle aspettative altissime. Niente. E mi dispiace. Nulla. Mi dispiace. Cerchiamo di farti soffrire la prossima volta. Ciao, raga. Ciao, ciao.